Momento particolare per il sindaco di Foggia, Franco Landella, e per la sua giunta. Dopo il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, il comune potrebbe andare a una verifica politica o anche ad un azzeramento della giunta stessa. L'ha detto il primo cittadino durante il consiglio comunale di lunedì scorso. Non nascondendo che nei due anni di antività ci sono state incomprensioni nella maggioranza, tant'è che alcuni partiti di riferimento hanno abbandonato la stessa. Il sindaco è intenzionato a recuperare tutte queste situazioni. In aula ci sono stati anche i provvedimenti che hanno riguardato l'Ataf dopo lo sciovero che ha paralizzato nei giorni scorsi l'attività lavorativa nel capoluogo d'Auno provocando disagi e anche alimentando tensioni con i sindacati. Si tratta di un altro dovuto a fanno filtrare dall'azienda, ma per il momento dal consiglio di amministrazione non è arrivato nessun commento. Intanto sono stati raggiunti nella procedura di licenziamento i dipendenti che hanno proclamato quello sciovero. Mimmo Siena, Speciale News.